Per la Roma Franco Sensi è stato e rimarrà per sempre il presidente. A tre anni dalla sua scomparsa, quando la società giallorossa ha ormai virato verso altre vie e altri orizzonti, il suo ricordo è ancora vivo nella mente di giocatori e tifosi. Franco Sensi ha regalato alla Roma uno scudetto indimenticabile, al calcio italiano ha regalato battaglie e idee solo contro tutti, uno del popolo terribilmente innamorato della sua squadra, che aveva scoperto da bambino tramite il papà e guidato poi da adulto. I suoi ragazzi, il suo capitano Francesco Totti che oggi lo ricorda sul suo blog, sua figlia Rosella che in questi ultimi anni ha presieduto la società nel suo nome, sua moglie Maria, a cui sono affidati i ricordi più intimi. Gli episodi ce ne sono tanti, gli ultimi minuti della partita, che mio marito aveva paura che c'era l'invasione di campo e poteva succedere qualcosa, e la sera quando siamo andati a casa che lui era sfinito, mentre il mister voleva festeggiare la sera, ma lui fisicamente proprio non ce la faceva. La cosa bella è che il giorno dopo siamo andati a fare il giro di tutte le piazze romane con l'autista, perché gli avevo detto che erano imbandite tutte le piazze e le hai volute vedere. Il calcio gli deve molto e nel giorno in cui la società passa ufficialmente nelle mani degli americani sono in tanti che alzano lo sguardo verso il cielo e lo ricordano, perché Franco Sensi è e rimane il presidente della Roma anche dall'assunto.